salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di sopravvivenza in minecraft siamo di nuovo qui anche se oggi è mercoledì ho fatto una quasi rima ma non importa qui mercoledì sì dai possiamo accettarla come mezza rima e sì come avevo anticipato ieri oggi c'è di nuovo minecraft forse anche nei prossimi due giorni vediamo un attimo perché intanto volevo portare avanti il progetto del mob bot visto che una roba che è già passata portiamola a termine e andiamo avanti ma prima di tutto guardate che belle le mie librerie diversificate guardate che belle con la spax comunque comunque vi ricordo a tutti quanti di iscrivervi al canale mi raccomando attivate le notifiche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video non solo di minecraft perché non faccio solo minecraft vorrei fare di più ma non ci riesco più di tanto però lo faccio lo stesso perché lo faccio con passione perché mi piace farlo e perché è un hobby qualcuno penserà ma tu ci guadagni con minecraft con youtube no neanche un centesimo lo faccio solo perché mi piace farlo e si sono povero in canna va bene allora lasciate un bel like per supportarmi così mi sento più ricco anche se non è vero però mi sento più ricco ed è già tanto quello e commentate mi raccomando perché leggo tutti i commenti ricordo che ho un commento in sospeso di uno di voi che è scritto sulla farm quella dei drone ed poi quando avremo terminato questi tre piccoli progettini del mob vote lo andrò a esaminare meglio e andrò a controllare quello che mi segnalava bene allora direi di andare avanti con l'episodio di oggi usciamo da questa casa che non usiamo praticamente mai ma sto giro lo usiamo eccoci qua perché perché ci mette qui allora il copper golem è venuto molto bene molto carino ma è ora di passare a sì non fare un bagno però è ora di passare alla costruzione di un altro mob del mob vot anzi possiamo chiamarlo pet vot vito 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 si vito vato vuto che abbiamo avuto tre pet da votare quindi chiamiamolo pure pet vot allora ora andremo a costruire la lei ovvero il pet che ha vinto questi ci saranno un attimo come indicatori riesco a farlo no ovviamente no allora devo fare tipo una cosa di questo genere adesso questo li riprendo la lei vola quindi non possiamo farlo direttamente a terra ok e adesso togliamo questi che non servono più perfetto perfetto non ho ancora la fissa folding quindi andremo di terra come sempre poi ci sono i materiali che vedete che sto usando qui sto creando il corpo centrale nel nostro bella lei a io facciamo facciamo noi in realtà sarebbe utile fare la testa prima di mettere queste quindi torniamo su qui stiamo utilizzando i colori sul ciano comunque azzurrino ciano il colore che gli si addice di più questo forse quello che potrebbe discostarsi un po di più ma non troppo così troviamo la terra mettiamo con i blocchi corso liscio gli facciamo gli occhi che particolarmente bello e andiamo avanti a chiudere la testa questa vittura può rompermi le scatole no effettivamente no fortunatamente e qui all'incentro mettiamo una luce perché rimarrà potremmo nasconderci un tesoro un segreto qualcosa potrebbe essere potrebbe essere allora qua bottole così vediamo la parte con gli occhi perfetto scendiamo giù e facciamo le bracchina quindi uno di qua usiamo le scale di prismarine l'altro lo mettiamo dal lato di qui e mi servono le due slab di prismarine ma mi aiuto con questo blocco a metterle di mezzo blocco più in basso la togliamo la lana perfetto ci siamo quasi e non è niente di di massa di massa complesso potrei anche andare a realizzare anche l'altro nano siamo un episodio così vengono belli carini eh papapapa cosa mi manca le alucce in effetti le alucce qui potrebbero questo potrebbe essere un po' fastidio ma solo quel blocco lì ok ok allora questo non mi serve più poi questo mi serve questo mi serve questo anche e anche questo perfetto ah il il rame che vedete qui ossidato che adesso vado a utilizzare l'avevo messo un bel po' di tempo fa a ossidare era tipo il primo che ho trovato l'ho messo a ossidare ed è passato parecchio tempo allora è fuori all'aperto eccetera eccetera allora 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 vediamo un pochettino vediamo un pochettino in realtà mi sa che mi mancano i blocchi di collegamento qui però va bene non importa facciamo solo quelli che si vedono poi quelli li aggiungerò dopo allora 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 così mi sa che non mi bastano nemmeno dovrei andare a prendere gli altri forse quindi con mezzo qui dovrei andare più in alto togliamo questa e mettiamoci la terra ok e adesso mi andiamo a mettere la scala su questo mezzo blocco sotto invece mettiamo la botola e la apriamo ok perché le le luce della lei non sono singole ma sono un po' più non possiamo dire più a parico di cervo non so se si possa dire questa cosa ma non importa io lo dico lo stesso eh parapara 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 facciamo la stessa ai la stessa cosa dall'altro lato quindi ehm babababa sfruttiamo un blocco di terra facciamo così togliamo un blocco di terra e mettiamo lastra lastra e la scala stiamo sempre qua sopra e qui sotto la botola bene ah si mi sono avanzate le bottole adesso vi posso vedere anche dove raccogliamo la terra mi da fastidio le botto le usiamo anche sotto qui e sotto qui perfetto erano giuste e giuste ho avanzato solo un po' di lanacciano che avevo portato in abbondanza apposta e ci siamo mancherebbe da fare il collegamento qui dietro ma poi dopo lo faccio lo faccio dopo tanto non è che si veda particolarmente allora adesso scendiamo giù non voglio di usare l'elita usiamo le spalette anche perché queste non le usiamo mai da questo lato qui della mappa non giriamo mai particolarmente tra l'altro non ho ancora arredata a quanto pare questa è vuota andiamo un'occhiata a questa ah si sono ancora vuote devo arredarle in compenso ho fatto una piccola modifica sul muro questo qui che si vede non si vede ho cambiato alcuni blocchi mettendo quelli muschiati per texturizzare un po' meglio saltiamo giù da qui ah io eh si devo anche qui sempre mille progetti aperti non ne concludo manco uno va bene va bene va bene ecco qui il nostro alley ricordiamo che l'alley è il mob pet chiamiamolo un po' come volete alla fine è comunque un mob che ha vinto il mob pet barra pet vote di quest'anno al minecon perché si pensava duplicasse gli oggetti aprisse le casse e facesse cose strane in realtà lui andrà solamente a raccogliere i drop di un certo oggetto che gli daremo da raccogliere quindi attenzione l'ho già detto nello scorso video io avrei votato il copper golem primo perché è fichissimo secondo era un altro utilizzo del del copper quindi del rame ma anche perché c'era questa funzione con la redstone i pulsanti di rame che secondo me i pulsanti di rame ci stavano tantissimo e di randomizzare poteva essere davvero tanta roba con la redstone a proposito adesso che fa buio mi fa anche comodo aspettiamo un altro pochino vi dico che ho fatto una leggera modifica al copper golem nella parte interna della testa ovvero ho messo un fungo luminoso per illuminarlo perché se no mi dava fastidio mettere delle torce e in questo caso mi è venuto bene nell'alle mi sa che non ho modo di illuminarlo senza che si veda o che si veda troppo vabbè ci penserò su stavo pensando alle lanterne di prismarine ma adesso vedremo insomma però le mie prove magari in testa in cima potrei metterlo visto che non si vede potrebbe illuminare almeno la parte della testa comunque ho messo il fugu luminoso le scale girate e come potete vedere la testa è illuminata ha un bell'effetto devo dire che mi piace davvero molto quindi abbiamo il copper golem l'alley e qui ci sarà l'ultimo che però ho un mezzo dubbio poiché essendo lui uh che figo essendo lui verde con le betulle dietro che sono verdi perché sarà fatto di foglie di muschio di cose di questo genere non si staglierà più di tanto quindi non so se lasciare le betulle dietro o di sboscare in maniera che si veda il più possibile che si stagli contro il cielo poi vediamo insomma paparaparapapà allora vediamo un attimo che cosa c'è su di là e vi dico che per questo video sì questo è video episodio stavo dicendo tutto attaccato tutto insieme bene si so allora abbiamo quasi terminato purtroppo allora qui c'è questa questa alta ma probabilmente forse eliminando queste due è più che sufficiente perché queste poi sono più basse e noi intanto la maggior parte delle volte lo vedremo da giù tendenzialmente l'altro l'altro non sono mai andato sotto sotto a vedere lo vedremo da giù o comunque da lontano e dovrebbe risaltare meglio sul cielo senza queste due vetulle alte poi qui sopra che cosa ci faremo insomma potrei terraformare un pochino e mettere non so una zona relax o qualcosa del genere poi vediamo cosa c'è da l'altro di qua potrebbe diventare spazio anche per altre statue o costruzioni tipo queste da mettere in vista dal lato di qua quando faremo cose dal lato di qua non si può mai sapere però un po' di terraformazione qui davanti magari qualche erbetta qualche fiore potrei anche mettercelo ecco bini 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 sulla campanellina per essere sempre giornati su ogni mio nuovo video non solo di minecraft che si conosca guardate sono minecraft andate a dare un'occhiata anche a slime racers subnautica dragon ball naruto one piece black ops what's remain on edit finch e tanti tanti altri bene ciao ciao